In ogni caso della vita, il dolore è più acuto nella donna che nell'uomo, giacché questo ha la propria energia e trova conforto nel muoversi, nell'operare, nell'occuparsi del futuro, e l'altra invece vi si ferma faccia a faccia senza distrazioni, e scende sino in fondo all'abisso spalancato da lei stessa colmandolo spesso con lacrime e preghiere. Così accadeva di Charles e de Genie. All'insaputa del padre, ella conservò la stanza di Charles tale quale egli l'aveva lasciata, e la madre e la domestica si fecero complici volentieri di quello statu quo. Chissà che non ritorni più presto di quanto crediamo. Ah, vorrei che fosse qui io, rispose Nanon. Mi c'ero avvezza a quel bel signore gentile, dai capelli nanellati, come una ragazza. E volgendosi alla sua padroncina, madonna santa signorina che occhi, non guardate più a quel modo la gente. La bellezza della giovanetta veniva ora acquistando un carattere diverso, qualche cosa di grave e di fulgido, che i pittori a volte esprimono con l'aureola. Prima della venuta del cugino, ella poteva somigliarsi alla vergine immacolata. Dopo la sua partenza si sarebbe detta la vergine madre, perché aveva concepito l'amore. Tornando dalla messa, che per voto si recava ad ascoltare ogni giorno, comprò dall'ibraio un mappamondo e lo attaccò vicino allo specchio per seguire il giovane lungo la rotta verso le Indie, e trovarsi un po' sera e mattina nel bastimento che lo portava, e chiedergli tante cose. «Stai bene? Non soffri? Pensi a me?» Poi, seduta sotto il noce, sul vecchio banco di legno, rosicchiato dai vermi e coperto di muschi grigiastri, ove di tante inezzi avevano parlato e tanti castelli in aria fatti, si lasciava andare con la mente all'avvenire, fissando il breve lembo di cielo chiuso fra le muraglie ed il tetto che copriva la camera di Charles. Era insomma l'affetto solitario e costante che si insinua in ogni pensiero, ed è in sostanza ed alimento della vita. Quando poi i cosiddetti amici del padre venivano a sera per la partita, ella si dimostrava allegra e dissimulava. Nanon cercava di incoraggiarla e giungeva anche a dire «Se avessi avuto un uomo io, l'avrei seguito all'inferno, l'avrei... sì, mi sarei ammazzata per lui, ma... nulla, morrò senza conoscere cos'è la vita. Del resto vi dico, signorina, che quel briccone di corno aie mi ronza intorno per la mia rendita, come quelli che vengono qui a farvi la corte fiutando il tesoro del babbo. Io lo so, me ne accorgo perché furberia ne ho abbastanza, ma pure che volete. Ciò mi fa piacere, padroncina, quantunque non sia proprio l'amore». Passarono due mesi e quell'esistenza così monotona un tempo era oggi animata dall'interesse immenso del segreto che legava le tre donne. Per loro Charles era sempre lì, nella sala grigia, ed Eugénie non mancava due volte al giorno di aprire la scatola e contemplare il ritratto della zia. Una volta di domenica fu sorpresa dalla madre mentre vi studiava la somiglianza dei lineamenti con quelli del giovane, e da allora le disse del cambio fatto col suo denaro. «Gli hai dato tutto!» esclamò la buona donna atterrita. «E che dirai a tuo padre quando vorrà riveder loro a Capodanno?» Gli occhi della fanciulla impietrarono e uno spavento mortale dominò ambedue per l'intera mattinata, tanto che non giunsero in tempo alla messa grande. Fra due giorni finiva il 1819. Fra tre giorni un dramma si preparava, una tragedia borghese senza veleno né pugnali né sangue, ma più terribile, per gli attori, dei drammi occorsi nella illustre famiglia degli atridi. «Che sarà di noi?» disse la signora Grande, lasciando cadere sulle ginocchia il lavoro a maglia cui attendeva. Da tante impressioni, in quei due mesi era stata combattuta che non riusciva ancora a finire i suoi polsini di lana per l'inverno, e l'indugio fu a lei fatale perché prese freddo un giorno che era madida di sudore per un'orribile scenata del marito. «Pensavo, figliola mia, che, se m'avessi confidato il tuo segreto, saremmo state in tempo a scrivere a Parigi al signor de Grasset, ed egli ci avrebbe certo mandato delle monete simili alle tue. È vero che Grande le conosce una per una, ma forse... E che ci avrebbe dato il denaro? Si sarebbero potuti impegnare i miei gioielli, e poi de Grasset ci avrebbe... «È inutile, non v'è più tempo», concluse Eugénie con voce roca interrompendola. «Nelle prime ore di domani dobbiamo andare in camera sua ad augurargli il buon anno». «Se ricorressi mai Crusciò, figliola?» «No, no, sarebbe mettermi nelle loro mani. Del resto io son risoluta. Ho fatto bene e non mi pento. Fido in Dio e seguo la sua volontà. «Ah, se fosse capitato a voi di leggere quella lettera, mamma, va sicuro che non avreste pensato ad altri che a lui, va sicuro». Il di seguente, primo gennaio 1820, le due donne, atterrite, si appigliarono alla prima scusa che sembrò loro plausibile per non recarsi in camera di Grande, e, poiché il freddo era intenso e la neve copriva i tetti, la signora disse al marito, non appena l'udì, muoversi nella propria stanza. «Senti, Grande, dì a Nanon che accenda qui un po' di fuoco. È così rigida la temperatura, ch'io gelo sotto le coperte. Alla mia età sa pur bisogno di qualche agio. Così anche Eugénie potrà venire da me a vestirsi, a scanso d'un malanno. Poi passeremo insieme nella sala ad augurarti il buon anno presso il caminetto». «Ta-ta-ta-ta, che lingua! Lo cominci bene l'anno, signora Grande. Non ti ho mai udito parlare tanto, e non credo che abbia mangiato del pane molle nel vino». Poi, dopo un breve silenzio, cedendo alla richiesta della moglie riprese. «Bene, farò come dite, signora Grande. In fondo sei una gran buona donna, e non vorrei che all'età tua ti cogliesse un malanno, benché, in generale, i labertellieri resistano come cemento indurito. Resistono! Non è vero, forse? Tuttavia, ci hanno lasciato l'eredità. «E io li perdono!» Un colpo di tosse lo interruppe. «Siete allegro stamane, signore?» Osservò seria, seria la poverina. «Sempre allegro io!» «Ghe, ghe, ghe, le tonne, gli è! Recomandevo tre cuvie!» Aggiunse, entrando nella camera della moglie già belle vestito. «Sì, corpo di un piccolo buon uomo, fa proprio freddo. Mangeremo bene oggi a colazione de Grasse, mi ha mandato un pasticcio di fegato grasso con tartufi, e vado subito a ritirarlo nell'ufficio delle diligenze. Vi sarà anche un Napoleone doppio per Eugénie. «Io non ho più oro, moglie mia, avevo ancora qualche vecchia moneta, posso dirlo a te, ma ho dovuto darla via negli affari!» E, per celebrare il Capodanno, la baciò in fronte. «Eugénie!» gridò la buona madre. «Non so su qual fianco abbia dormito tuo padre stanotte, ma certo è buonissimo, forse ce la caveremo!» «Cos'ha il padrone?» chiese la domestica quando venne con la legna. «Prima mi ha detto «Buongiorno e buon anno, bestiona, vado a accendere un po' di fuoco in camera della signora, che è a freddo!» Poi ha teso la mano e mi ha dato uno scudo di sei franchi, un vero scudo! «Son rimasta di sasso!» «Guardate! Eccolo! Oh, il bravo uomo è davvero una degna persona! Vi sono di quelli che più invecchiano e più diventano duri, ma lui si è fatto dolce addirittura come il vostro liquore!» È un uomo perfetto, un uomo... Il segreto di quella gioia derivava dalla completa riuscita della speculazione. Il signor de Grasset, dedotte le somme di cui era in credito per lo sconto di centocinquanta mila lire di effetti olandesi e per la differenza occorsa all'acquisto della rendita, gli spediva con la diligenza il resto, cioè 30.000 franchi in scudi e gli annunciava il rialzo dei fondi. Essi erano allora ad 89, ma per fine gennaio i capitalisti più seri compravano già a 93 e il vecchio avrebbe perciò guadagnato in due mesi il 12%. Egli aveva chiuso i conti con la sicurezza di una rendita di 50.000 lire per semestre, netta di imposte e spese di manutenzione. Finalmente capiva appieno che fosse l'impiego del denaro nel debito pubblico, impiego di cui diffidano tanto i provinciali. Dopo cinque anni avrebbe avuto un valore di sei milioni messo insieme senza fatica e aggiuntovi il valore degli immobili si sarebbe formato un patrimonio colossale. Forse i sei franchi di Nanon erano il compenso di grandissimi servigi che la gli aveva reso a sua insaputa. Oh, oh, dove diamine corre papà grande così presto come se andasse a spegnere un incendio e si chiesero l'un l'altro i merciaiuoli che aprivano le botteghe. Poi, quando lo videro tornare dalla piazza con un fattorino delle messaggerie che spingeva una carriuola carica di sacchetti, si incrociarono i commenti. L'acqua va sempre al fiume, diceva uno, e il vecchio corre agli scudi. Gliene arrivano da Parigi, da Frafond, dall'Olanda, aggiunse un altro. Finirà col comprare a tutta Somur, gridava un terzo. Se ne infischia del freddo, lui, osservava una donna al marito. Gli affari prima d'ogni cosa. Ehi, signor Gandè, se quella roba vi incomodasse, son qua pronto io a sbarazzarvene, gli disse un mercante di pannine che era di bottega presso la sua casa. Oh, non si tratta che di soldi, rispose il vignerolo. D'argento, soggiunse il fattorino sottovoce. Se vuoi la mancia, bada di tenere a freno la lingua, gli disse il buon uomo aprendo il portone. Ah, vecchia volpe, pensò l'altro, e io che lo credevo sordo. Sembra che col freddo ci senta bene. Ecco venti soldi per te e via. La domestica ti riporterà poi la carivuola. No, no, quelle donnette sono andate a messa? Sì, signore. Svelto il piede dunque e porta su i sacchi. In pochi minuti gli scudi passarono nella sua stanza, ovegli si chiuse, dicendo Quando sarà pronta la colazione, picchierai contro il muro. Riporta intanto la carivuola all'ufficio delle messaggerie. Non fecero colazione prima delle dieci, e la signora Grandè, tornando a casa, sussurrò alla figlia. Credo che tuo padre non chiederà di vedere l'oro, ma in ogni caso tu tira fuori la scusa di aver freddo, e così ci sarà tempo di provvedere per il tuo natalizio. Grandè scese sopra pensiero per la sua meravigliosa speculazione, rimuginando nella mente il modo di cambiare subito in oro gli scudi e di impegnare l'entrata in altre cartelle, finché la rendita non raggiungesse la pari. Quella meditazione riuscì funesta ad Eugenie. Al suo ingresso la moglie gli dette il buon anno con dignitosa gravità, e la figliuola lo abbracciò carezzandolo. Ah, fanciulla mia, disse gli baciando la sole guance, dice, io lavoro per te, vedi, lavoro per la tua felicità, ci vuol denaro per essere felici, altrimenti nulla. Prendi, ecco un Napoleone nuovo di zecca che ho fatto venire da Parigi, corpo di un piccolo buon uomo, qui non si trova più un granello d'oro e sei tu sola ad averne. Mostramelo un po', figlietta. Per ora mangiamo. Fa freddo, rispose tremando Eugenie. Sì, sì, va bene, lo vedremo dopo, e ci aiuterà a digerire. Quello scemo di De Grasset ci fornisce intanto il pasticcio, e voi mangiate, mangiate pure, non costa niente. Sono contento di De Grasset quel salame, fa buon servizio a Charles, è gratis per giunta. Regola bene gli affari del povero Guillaume. Oh, oh, soggiunse a bocca piena dopo un breve silenzio. È buono il pasticcio, è buono. Mangia, moglie mia, veda nutrirsene almeno per due giorni. Non ho appetito, lo sai, mi sento così malaticcia. Ah sì? Va là che puoi rimpinzarti senza paura che scoppi il baule. Sei una laberteliere, tu una donna robusta, sebbene abbia l'apparenza d'uno stelo giallastro, ma a me il giallo piace. È forse minore la sofferenza per il condannato a una morte ignominiosa di quello che fosse l'ansia della signora Grandè e della figlia nel frattempo. Più parlava allegro il vecchio mangiando, e più ad esse si stringeva il cuore, ma alla ragazza almeno traeva un gran coraggio dalla forza dell'affetto. Per lui, per lui soffrirei mille morti, pensava rivolgendo alla madre vivi sguardi per farle animo. Alle undici la colazione era finita, e Grandè chiamò la domestica. Sparecchia e lasciaci la tavola, saremo più comodi e genie per contemplare il tuo piccolo tesoro, ma non tanto piccolo, poi tu hai già valore intrinseco 5959 franchi, e con i quaranta di stamane manca una lira a far 6.000. Bene, per arrotondare la somma ti darò io questa lira, perché, ascolta figlietta, come? Non ascolti? Nanon, mostraci i tuoi tacchi e va per le tue faccende. Nanon scomparve. Dunque, senti, bisogna che mi dia il tuo oro, e non credo che vorrai rifiutarlo al babbo che non ne ha più. Ti renderò 6.000 franchi in lire, e le impiegherà in modo che ti suggerisco. Non è più il caso di pensare alla dote, ma ritandoti fra breve, saprò scovarti uno sposo che t'offre il miglior regalo di cui si sia mai parlato nella provincia. Sta quindi attenta, figlioletta mia, c'è una magnifica occasione per impiegare il tuo denaro in cartelle del debito pubblico. Ad ogni semestre, tu avrai 200 franchi di interesse senza imposte, senza spese di manutenzione, e senza rischi di grandine, di geli, di maree e di quant'altro mette in pericolo le rendite immobiliari. Ti dispiace lasciar quell'oro, eh, bambina? Dammelo subito, e non dubitare che troverò per te monete simili, olandesi, portoghesi, rupie del mogol, genovesine. Con i regali delle feste in tre anni avrai rifatto la metà del tesoretto. Che ne dici? Va a prenderlo. Dovresti baciarmi sugli occhi per la compiacenza di aprirti segreti ai misteri di vita e di morte degli scudi, giacché gli scudi vivono e si muovono come gli uomini, vanno, vengono, lavorano e producono. La giovinetta si alzò e fece qualche passo verso l'uscio, ma ad un tratto si rivoltò, guardò in faccia il padre e disse «Il mio oro non l'ho più». «Non l'hai più!» gridò il vecchio saltando in piedi come un cavallo che scatta nei garretti a un colpo di cannone scoppiato vicino. «No, non l'ho più!» «Tu scherzi, Eugenie!» «No, per il falcetto di mio padre!» era la più tremenda delle imprecazioni di Grandè. «Oh, Dio buono! La signora si fa bianca!» strillò Nanon. «Grandè! L'ira tua mi dà la morte!» sospirò la povera donna. «Ta, ta, ta, ta! Voi altre non morite mai! Voi, dalla casa delle bertegliere! Tu, cosa hai fatto del denaro?» insiste scagliandosi contro la figlia. «Signore!» rispose questa in ginocchio presso la madre. «Vedete bene che sta male! Non la vorrete uccidere!» Il pallore della moglie spaventò anche il vecchio, con voce debolissima e la mormorava «Nanon, vorrei coricarmi, aiutatemi! Mi sento morire!» La domestica e la figlia furono sollecite a prenderla sotto braccio e da stento la sorressero su per la scala fino alla sua stanza. La saliva, lo smarrimento, quasi ad ogni gradino. Grandè rimase solo, poi, dopo qualche minuto, salì anche lui sette o otto scalini e gridò «Egenie! Quando tua madre sarà coricata, scendi!» «Sì, babbo!» In breve, ella comparve dopo essersi fatta animo. «Figliuola!» cominciò Grandè, «Mi dirai ora che ne è del tuo tesoro!» «Babbo, se dei vostri regali non devo essere la padrona assoluta, riprendeteli!» rispose lei con freddezza, togliendo di sopra il caminetto il Napoleone e presentandoglielo. Il vecchio afferrò subito la moneta e la fece sparire nella tasca. sta pur sicura che non ti darò più nulla, neanche uno spillo. Voi dunque disprezzate il padre e non avete confidenza in lui? Ma non sapete che cos'è un padre se per voi non è tutto e come fosse niente? Dov'è l'oro?» «Io vi amo e vi rispetto malgrado l'ira vostra ma vi faccio osservare umilmente che ho 22 anni e sono maggiorenne come voi stesso più volte mi avete detto quindi ho fatto del mio denaro l'uso che meglio mi è parso e va sicuro che è ben collocato. Dove? È un segreto inviolabile non avete anche voi segreti? Ma io sono il capo della famiglia e tratto gli affari! Questo è anche affare mio «Deve essere certo un cattivo affare se vi manca il coraggio di parlarne a vostro padre signorina grande no? È eccellente ma non posso tuttavia confidarlo a mio padre almeno da quanto tempo avete dato via quell'oro?» La ragazza fece col capo un segno negativo «L'avevate ancora il giorno della vostra festa, eh?» gli rispose con lo stesso cenno «Non sei mai vista una simile testardaggine né una simile ruberia» proruppe il vecchio con voce che si fece sempre più sonora fino a rimbombare per la casa «Come? Qui in casa mia sotto i miei occhi si prende dell'oro l'unico che vi fosse e non mi si dice da chi l'oro una cosa carissima anche le ragazze più oneste possono commettere delle colpe e regalare non saprei ma dar dell'oro perché certo l'avete dato a qualcuno» Eugénie restava impassibile «Ma guardate che figlia sono o non sono vostro padre se lo avete impiegato vi avranno dato una ricevuta» «Ero libera sì o no di fare ciò che mi pareva di quel denaro mio» «Ma tu sei una ragazza» «Maggiorenne» sbalordito dalla logica della figliuola Grandedi venne pallido pestò i piedi in terra masticò imprecazioni e recuperando al fine l'uso della parola gridò «Maledetta serpe di figlia tu sai che ti voglio bene cattiva erba e ne abusi tu mi strozzi per Dio non c'è dubbio che il denaro è stato gettato ai piedi di quel cencioso dagli stivali di Marrocchino per il falcetto di mio padre se non ti posso diseredare corpo di una botta e ti maledico te tuo cugino ai tuoi figliuoli vedrai vedrai che bel costrutto ne verrà fuori se fosse proprio Charles ma no impossibile come quel tristo d'amerino mi avrebbe svaliggiato e fissò la giovane che rimaneva fredda e muta ecco non fa un gesto non muove ciglio è più grande di me stesso non l'avrei dato per nulla il tuo oro almeno di via ella gli volse uno sguardo ironico l'avaro si sentì offeso profondamente Eugenie voi siete in casa mia in casa di vostro padre e se intendete di restarvi bisogna che obbediate ai suoi ordini come la religione vi impone mi avete ferito in quel che avevo di più caro eppure voglio soltanto vedervi sottomessa ritiratevi nella vostra camera voi non uscirete finché io non ve lo permetta nanon vi porterà pane e acqua avete inteso andate la fanciulla scoppiò in lacrime e corse da sua madre il vecchio intanto fece parecchi giri per il giardino in mezzo alla neve senza accorgersi del freddo poi con il desiderio di cogliere in fallo la figliuola s'arrampicò come un gatto su per la casa ed apparve d'improvviso nella camera della moglie mentre la carezzava i capelli di Eugenie che le aveva nascosto il volto nel seno consolati bambina mia tuo padre si calmerà non ha più padre disse il bottaio siamo stati proprio noi due signora grandea a far quella figliuola disobbediente bella educazione molto religiosa poi come va che vi trovo qui ancora via in prigione in prigione signorina mi togliete la figlia signore chiese la povera donna col viso rosso dalla febbre se la volete con voi uscite di casa tutte e due per mille fulmini dov'è l'oro che ne è stato dell'oro senza parlare con severo atto d'orgoglio Eugenie si tolse di là ed entrò in camera sua il bottaio chiuse l'uscio nanon spegni il fuoco in sala cridò poi e andò a sedere su una poltrona accanto al caminetto soggiungendo certo l'ha dato a quel seduttore miserabile di Charles che aveva solo di mira il nostro denaro il pericolo diede alla signora grande la forza di essere fredda muta e sorda non sapevo nulla io rispose volgendosi dall'altra parte per sfuggire gli sguardi accesi del marito e soffro tanto alle vostre scene che ho il presentimento di non cavarmela mi sembra di non avervi dato un dispiacere e potevate usarmi un po' di riguardo Eugenie vi vuol bene e secondo me è innocente come un bimbo in fasce non la tormentate col freddo intenso di questi giorni chissà che non ne faccia una malattia ho risolto di non vederla più e che resti in camera a pane ed acqua finché non m'abbia detto to che diamine un capo di famiglia ha pure il diritto di conoscere dove va a finir l'oro di casa sua e la possedeva forse le uniche rupie di Francia delle genovesi dei ducati d'Olanda sentite è nostra figlia unica e quando anche le avesse gettate nel fiume nel fiume urlò Lavaro nel fiume siete matta signora Grandè quel che è stabilito è stabilito voi lo sapete e se la pace vi preme cercate di indurre vostra figlia a confessare le donne fra loro si intendono meglio e poi in fondo non la mangerò qualunque cosa abbia commesso ha paura di me se anche avesse ricoperto d'oro il cugino da capo a piedi ormai egli è in mare e non gli può certo correre dietro ecco signore cominciò la povera donna ma la crisi nervosa a cui era in preda e l'affetto grande per la figliola le aguzzarono in modo l'intelligenza da farle scorgere un tremito minaccioso nei lineamenti del marito continuò senza cambiar voce ecco vi pare che io abbia su di lei maggiore influenza di voi non mi ha detto nulla ed in ciò vi somiglia perbacco che lingua lenta ta 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 credo che vi prendiate gioco di me e forse ve la intendete con lei il suo sguardo si fissò diritto sulla moglie se volete abbattermi continuate così per me anche a costo della vita vi dico e vi ripeto che avete torto di fronte a vostra figlia che ragiona meglio voi il denaro le apparteneva ed ella ne ha fatto certamente buon uso dio solo ha il diritto di conoscere le opere buone vi supplico signore perdonatela ciò mi farà star meglio mi salverà forse rendetemi egenie rendetemela scappo subito perché in casa non si può resistere madre e figlia parlano come accidenti begli auguri che ho avuto egenie si si piangete ma verranno poi rimorsi verranno che giova inghiottire il buon dio ogni quindici giorni quando alla chetica ella si consegna l'oro del padre ad un fannullone pronto a divorarvi il cuore se non v'è nulla da pretendere vedrete cosa vale il vostro charlo con i suoi stivali di marrocchino e l'aria di gran signore non deve avere anima se ha potuto prendere i risparmi di una povera ragazza all'insaputa di genitori non appena udì chiudere l'uscio di strada egenie corse dalla madre oh quanto coraggio per causa mia vedi figliola che conducono le cose illecite mi hai costretta a dire una bugia chiederò al signore di punir me è vero che la signorina deve stare a pane ed acqua d'ora innanzi venne a chiedere la domestica tutta sconvolta cosa importa nanon rispose tranquilla la ragazza non mi va a pane e acqua la padroncina no no non una parola di tutto ciò nanon ti raccomando non fiato ma vedrete voi per la prima volta in ventiquattr'anni grande pranzò solo siete levo signore arrischiò la domestica non è bello essere vedovo con due donne in casa non parlo a te io e se non tieni a posto la lingua ti caccio di casa che hai lì nella casseruola sul fornello che frigge tanto struggo dei grassi stasera ci saranno visite accendi il fuoco alle otto giunsero infatti crusciò la signora de grassin ed il figlio rimasero sorpresi non trovando né la signora grande né eugenie mia moglie è un po' indisposta ed eugenie è da lei disse il vignarolo con aria indifferente dopo un'ora di fuori e conversazione la signora de grassin che era salita dall'inferma tornò in sala e tutti si affrettarono a domandarle come va dunque la signora grande ma poco bene mi sembra anzi ho qualche apprensione all'età sua papà grande occorrono cautele speciali ci penseremo risposi strato il vignarolo gli ospiti si congedarono e giù nella via la de grassin di 6 cruciò deve esserci qualche cosa di nuovo dai grande la madre sta male assai senza che lo sospetti e la figliuola ha gli occhi rossi come chi ha pianto da molto che tentino di maritarla contro voglia appena l'ex bottaio fu a letto nanon a piedi scalzi entrò nella camera di eugenie portandole un pasticcio prendete signorina cornoyer mi ha regalato una lepre mangiate così poco voi che questo pasticcio vi durerà quasi una settimana ed il freddo impedirà che si guasti non avrete almeno del pane secco soltanto che non è certo igienico povera nanon esclamò la fanciulla stringendole la mano l'ho fatto in gran segretezza ed egli non si è accorto di nulla ho comprato con i miei quattrinucci il lardo il lauro e quanto occorreva sono poi padrono a dispenderli i miei denari e scappo via sembrandole di sentire grande grazie a tutti grazie a tutti